E' dedicata a chi è morto per confessare Cristo e testimoniare il Vangelo, la commissione che Papa Francesco ha istituito nel Di Castero per le Cause dei Santi. La commissione dei nuovi martiri, testimoni della fede, ha come prefetto il Cardinale Marcello Semeraro, già prefetto del Di Castero delle Cause dei Santi. I martiri nella Chiesa, spiega Bergoglio, sono testimoni della speranza che deriva dalla fede in Cristo e incita alla vera carità. La commissione non vuole stabilire nuovi criteri per l'accertamento canonico del martirio, ma proseguire, chiarisce il Santo Padre, la ricognizione storica per raccogliere le testimonianze di vita di chi è stato ucciso per il Vangelo, affinché la sua memoria spicchi come tesoro per la comunità cristiana. Il lavoro della commissione potrà contare sul contributo attivo delle chiese particolari, degli istituti religiosi e di tutte le altre realtà cristiane, e aiuterà i credenti a leggere anche il nostro tempo alla luce della Pasqua, attingendo dallo scrigno di tanta generosa fedeltà a Cristo le ragioni della vita e del bene, conclude Bergoglio.